Pequegna Suellas Il quartier generale del gruppo Basic Night presso la Sala Lastes, dove si sono svolte le prove di questo evento eccezionale. A dirigere i giovani musicisti il maestro messicano Arturo Marquez, che tra le altre cose è composto l'AF, canzone dedicata al premio Nobel per la pace 2014 Melala Youssef Zey, che ha concluso il concerto. Grazie per la visione!